E' stato il primo a portare il grande calcio in riva allo stretto, quello chiareso grande, la regina e colori amaranto. Oreste Granillo è uno di quei personaggi, entrati nella storia della città di Reggio e nel cuore dei reggini, ma non solo. E' stato un uomo capace di rivestire più ruoli nell'ambito dello sport e della politica. Vent'anni dopo la sua scomparsa, Reggio e la Calabria sportiva lo hanno ricordato durante la serata di gala del primo premio Oreste Granillo, ideato dal giornalista Maurizio Insardà. Coordinata da Italo Cucce e condotta da Marika Giannini, la chermessa ha raccontato la regina degli anni Ottanta, quella in cui Granillo era pronto a firmare cambiali pur di portare in Calabria campioni come il tecnico Carlo Regalia, il difensore Giancarlo Dastoli, i fratelli Giuseppe e Michele Sorace, l'attaccante Santonico, Giovanni Toschi e Arturo Campagna e il campione del mondo Franco Causio, il più riconoscimento, consegnato anche allo storico dirigente Franco Jacopino e al vicepresidente UEF e direttore generale della FIGC, Michele Uva, ospite d'onore. Alessio Buonpasso per la CNews24.